Ecco, signore e signori ci troviamo a Parasanmartino, al comunale di Parasanmartino, oggi è martedì 22 maggio, c'è la gara di campionato, seconda fase del campionato provinciale allievi, qua a Parasanmartino, Virtus Castelfrentano con la classica divisa giallorossa, qua il blocco dei titolari che partiranno dal primo minuto, c'è il mister Gabriele, qua c'è il direttore di gara, signor Sartarella dalla sezione Aia di Lanciano, poc'anzi c'è stato un temporale pioggia, vento e grandine, ecco si vede alcune chiazze di ristagno della copiosa pioggia che è caduta poc'anzi, là in ponte ci sono i ragazzi della valle Amentino, ci troviamo proprio sotto le montagne della Maiella, qua c'è la gola, qua c'è il pubblico, a pochi centinaia di metri qua c'è il pastificio del verde, del cecco, del cocco, proprio Parasanmartino a Parasanmartino è conosciuta nel mondo per i suoi pastifici, la pasta buona, dicono che gli ingredienti è l'aria di qua e l'acqua, l'acqua del verde, qua ci sono, oggi c'è solo il portiere titolare Matteo, lo sta riscaldando Bartolo che partirà dalla panchina, da questo altro lato c'è il blocco dei titolari, è una formazione ringiovanita con l'innesto per forza maggiore di 2003, abbiamo Lele e sempre sto cavolo di cellulare che rompe le palle, sempre. leggero, in avanti, in avanti. Pronto? Sì, stavo facendo una ripresa, va bene, ok. Aspetta, aspetta, ecco fammi interrompere.